Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi e oggi vi spiego come abilitare il proprio microfono nel browser Chrome, Firefox, Internet, Opera, altri browser è la stessa procedura, basta che andate su impostazioni e scrivete il microfono però non pensavo neanche di farlo questo video però me l'hanno chiesto quindi a questo punto andiamo su Chrome ma come vi faccio vedere queste sono le impostazioni quindi adesso vado sulla schedina della pagina iniziale e vado su impostazioni avanzate, sistema oppure possiamo direttamente fare così microfono, ok? impostazioni, sito e qui troviamo la fotocamera, il microfono, le notifiche, tutto microfono, predefinito metto il mio, questo è il microfono della webcam e qua potete mettere il vostro microfono, ok? molto semplice i siti possono richiedere l'autorizzazione e utilizzare il microfono per esempio, se vai su un sito, vuoi in alto a destra, spunta questo simbolo, il microfono e tu lo consenti oppure non consentire ai siti di usare il microfono o metti questo, o metti questo dipende da te se vuoi usare il sito con questo microfono quindi come potete vedere eccolo qua, possono utilizzare il microfono ho avuto qualche conferenza e quindi l'ho abilitato quindi ragazzi, un video brevissimo se vi è stato utilissimo, iscrivetevi al canale attivate anche la campanellina lasciate anche un like se il video vi è stato utilissimo, ok? quindi, ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao